Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi sono in compagnia della signorina Jessica e ti ho deciso di fare invece che i soliti video tag, un video reazione che era da un bel po' che non facevo già da mezzo anno, che ne abbiamo fatti insieme oltretutto però, che è sempre insieme e niente, quindi oggi vedremo il trailer per la prima volta, quindi lo vediamo in diretta con voi di We Are Friends, il film quello con Zac Efron, prodotto da Max Joseph uno dei miei registi preferiti, per chi vede Catfish sa chi è. Insomma, partiamo col video. Aule studio, i corsi, gli esami, borse di studio, cercare lavoro, fare carriera, sogni spezzati, questo non è il nostro futuro. Per noi funziona in modo diverso, puoi inventare un'app, aprire un vlog, vendere cose online, io e i miei amici, noi organizziamo feste. Porta le tue amiche, portale, se sono come te, portale tutte. Se sei un DJ, tutto quello che ti serve è un laptop, un po' di talento e una traccia. Per ragazzo là, lo vedi quei grafico là? Lui è il DJ, io sono il DJ della seconda sala. Oltretutto, oltretutto. Puoi mettere Drek in love? Assolutamente no. Avete presente quel tipo che ha inventato Instagram? L'ha venduto per 400 milioni. Volete fare i soldi veri o volete vivere e morire qui? Bene. Questo no, grazie. Ehi, questa testa mi sembra un po' spenta. Che vuoi dire? Che devo accenderla io? Voglio metterlo sempre per i caratteri, venga. Che fate? Sei stato forte, sai come lavorarti la folla. Quale è il game, spiegare? Qual è? Il tizio? Quello che ha in posizio. Meglio passare un pezzo dopo. Ah, quando? Eh, dove viene? A settembre, invece. Ma che fanno? Ma noi ce la faremo mai? Insomma, non ho capito, non ho capito. Ogni artista di successo vive un momento in cui smette di essere un fan e trova il proprio stile. I suoni hanno un'anima. Parti da zero. Trovane di nuovi. Molla il computer e ascolta quello che il mondo sta cercando di dirti. Lui non ci serve, facciamo da soli. Non diventeremo mai milionari. Non succederà mai. Vedete come fare Eggie? E la tua realtà dove è finita? Io non sarai leale. Ognuno è responsabile per se stesso. Se hai un sogno ed è fatto di tutto quello che sei, hai il biglietto vincente. Questo è il mio futuro. Beh, il futuro così, cioè, boia. Come va? Io sono Colcanner. Ah, we are your friends. Settembre 2015. No, fino a settembre. Mi ispira parecchio questo film. A me tanto, direi. Ci sta tutto, ci sta. Praticamente è la storia... Di un mega festone. No, di lui che diventa un DJ famore. Esatto, sì. Che diciamo che non segue le cose tradizionali, tipo scuola, università, lavoro, eccetera. E dice, faccio tutto da me. Ovviamente, chissà dopo quanto, però vabbè. Ma vabbè, a parte che andrei a prescindere da vederlo, cioè... Sì, beh, ovvero... Due motivi. Uno c'è Zac Efron. Uno. E poi, vabbè, cioè, la chi l'ha diretto. Max. Cioè, insomma... Vabbè, volevo anche Nave, però. Se si sbucca Nave, tipo, a un certo punto... Dove essere. Sì, che figo. Beh, mi piacerebbe. No, è impossibile perché stava girando Catfish la quarta stagione, quando non ha girato. Vabbè, potrebbe fare comunque una composta. Beh, ci starebbe. Comunque, se anche a voi vi è piaciuto il trailer, se andrete a vederlo, ecco, se andrete a vederlo, mettete un bel like. E se avete commenti di qualsiasi cosa, sempre qua. Domani non lo ripeto più, lo sapete. Sotto. Sotto. E noi ci vediamo al prossimo video che caricherò, quindi... Ciao! Ciao!